Attivo tra Einar Nielsen 1894-1962 Medium danese ad effetti fisici Attivo tra il 1920 e il 1950 Fin da fanciullo aveva visioni A dieci anni scorse la faccia sofferente di un vecchio che si era impiccato due giorni prima Manifestò subito la doppia vista A sedici anni si riuniva a casa dell'ingegnere Stockel per eseguire sedute al tavolino A diciassette lui stesso racconta durante la sua prima trance sarebbe stato trasportato nel cosiddetto al di là dove gli sarebbe stata affidata la missione di essere medium Iniziò così il suo automatismo parlante accompagnato spesso da psicocinesi fenomeni luminosi apporti e voci dirette Nel 1914 si manifestò la sua guida di nome Mika che sarebbe stata un sacerdote indiano vissuto nel 400 avanti Cristo Lo Srenk Notzing e il Grunwald furono testimoni di masse ectoplasmatiche che uscivano dalla bocca e dal naso del Nielsen Nel 1922 ad Oslo fu accusato di produrre le sue ectoplasmie fraudolentemente per mezzo di veli nascoste nel retto Ma le accuse non avevano nessun fondamento Numerose sono le testimonianze che parlano di forme completamente materializzate che si formavano in genere da una nube di ectoplasma e producevano apporti Spesso le forme parlavano con i presenti ed erano riconosciute come parenti defunti Nel 1929 fu ottenuta la materializzazione della regina Astrid del Belgio che parlò in svedese e fu fotografata dal reverendo Martin Lillebland L'italiano Gastone De Boni riferisce di una seduta tenuta a Londra il 7 ottobre 1948 a cui fu presente e durante la quale si materializzarono entità di fanciulli e di adulti talora giganteschi che eliminavano ogni dubbio che fossero rappresentati dallo stesso medium Commento Anche per il Nielsen è rispettata la prassi secondo cui gli sperimentatori non possono spiegare i fenomeni con le categorie della mente Anche la medianità del Nielsen manifesta grandi fenomeni fisici mentre in quel tempo del progetto spiritico l'insegnamento sulla vita è del tutto assente